Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal comunale di Monserratto per assistere alla prima sfida del 2020 tra la capolista Calciopiri e la Ferrini di Quartu. Partito l'incontro, insieme a Giovanni Sarezzu la giocano corta, lo scarico ancora per Mura, il cross, tiro verso la porta, l'intervento di testa. La progressione di Diop è più veloce del diretto avversario, arriva Diop, calcia verso il secondo palo. Ancora Pinna, lancio lungo, palla precisa dove c'è Porcu, contro il Porcu, uno contro uno, Porcu all'interno della linea di rigore, col sinistro la risposta di Samba. Si accentra per liberare il destro, lo libera in questo momento, poi palla recuperata, palla verso Mura che ha spazio davanti a sé all'interno della linea di rigore. Ancora Mura con la destra, Mura c'è il gol del Pirri che diventa lettale come sempre quando ha spazio e campo aperto. L'assist del numero 20 Porcu per Giuseppe Mura che la sblocca al minuto numero 12, Calciopiri, uno, Ferrini di Quartu, zero. Palla giocata dentro verso Diop, c'è l'intervento in fase difensiva, poi arriva Mura ancora con la sinistra dalla distanza. Ancora più in profondità Diop, c'è l'intervento sbagliato, poi Porcu per Diop, ancora Diop a tu per tu con Samba, c'è il pallonetto, il tocco morbido, il 2 a 0 del Calciopiri. Con la gran giocata di Porcu con l'attacco per Samba che brucia tutti sul tempo, il pallone in profondità, Porcu è più veloce della diretta avversaria, ancora Porcu con l'esterno e c'è il 3 a 0. C'è il 3 a 0 di Porcu con la gran giocata sull'assist perfetto di Busiu. Cambia idea, probabilmente calcerà direttamente in porta Mura. Parte lui con la destra, pallone che passa, c'è la finta di De Noti e c'è il quarto gol del Calciopiri con la punizione messa a segno da Mura, due uomini in barriera. Parte Sarri su con la destra, Mura prolunga, poi la tocca a De Noti, traversa a De Noti con la spalla. Ancora palla dentro per Mura che arriva dalle retrovie, Mura per Diop davanti alla porta. Diop non ha nessuna difficoltà a superare Samba per il 5 a 0. Il lacrosso di Sarri su Diop, tutto solo, sbaglia questa volta. Che arriva dalle retrovie, poi il controllo all'interno della di rigore, poi la conclusione con la destra, pallone che termina sul fondo. Ancora Tamba con la sinistra, pallone che gira. Il tocco morbido verso De Sogus, il pallonetto De Salvi la tocca sulla traversa e compie il miracolo sul pallonetto di De Sogus. Fini il quarto, 0, Angioni con la destra, pallone che gira e sfiora il palo. Parte lui, Piludu va alla ricerca del pallone, c'è l'autorrette del numero 6, Anedda. Il lacrosso Samba non interviene sul pallone. Palla dentro, Piludu, la palla rimane là, la piazza Piludu, palo per il numero 16 del calcio Pirri. Spara la porta, prova a girarsi. La conclusione di Anedda, Modribring dal limite, dalla tre quarti, può calciare. Palla per Murakol, a destra, Samba. Il numero 18, e adesso arriva il gol di Ulleri. Arriva il 7-0. Termina al 45esimo la sfida tra Calcio Pirri e Ferrini Quartu, con il risultato di 7-0 in favore dei padroni di casa.